Facciamo un record. Ok, allora inizia la registrazione. Speriamo che poi la trovo. Dunque, benvenuti tutti. Quindi facciamo solo il conteggio. Siamo in 24 in Zoom. E un pochino di meno qui su... Siamo in 18. Comunque la cosa più importante è l'esserci e vederci in Zoom. Quindi, allora, vi ringrazio per la partecipazione. Dicevo, questo corso, alcuni di voi l'hanno già seguito, questo corso o simili all'anno scorso, negli anni scorsi, e alcuni altri è la prima volta che venite a frequentare questo incontro. Quindi noi lo facciamo in questo posto virtuale che si chiama Edu3D. Edu3D l'abbiamo già spiegato nel documento. Quindi dovreste avere tutte le informazioni scritte su quel documento che abbiamo messo in Facebook. Se non è chiaro, potete anche chiedere, qui o meno, ma comunque non è un'associazione riconosciuta. Quindi andiamo in Facebook, Edu3D. Trovate questo documentino che è proprio qui, nella descrizione del gruppo. Quindi mi aspetterei, ah, non è Edu3D, scusate, Edu3D Blender. Quindi la cosa importante è che voi abbiate più o meno letto quello che c'è dentro questo documento, Google Doc, che se aprite sostanzialmente vi descrive tutta una serie di cose. Quindi le leggete che appunto noi siamo, come Edu3D, una comunità di pratica, cioè sostanzialmente un gruppo di persone, docenti e no, che cerca di condividere le proprie conoscenze, le proprie esperienze attraverso quello che si chiama una comunità di pratica. Quindi sostanzialmente riuscire a condividere insieme le nostre esperienze e andare avanti, produrre qualche cosa che possa essere soprattutto utilizzabile in ambito educativo. Quindi l'idea è quella di darvi il background, insomma un'esperienza minima che vi consenta di costruire degli oggetti che poi potete usare in Edmondo o comunque per fare delle lezioni in mondi virtuali. Noi siamo tarati molto su OpenSIM, infatti noi siamo, come vedete, siete tutti su Craft e molti di voi sono anche su Edmondo e l'E23D, sapete, non è direttamente collegato con Edmondo, quindi anche se ci sono un po' di scambi informativi, noi siamo sostanzialmente non istituzionali, quindi i corsi che facciamo non danno nessun tipo di punteggio effettivo. però l'esperienza fatta con noi, visto che siamo fra le persone che hanno la maggiore esperienza nei mondi virtuali OpenSIM, nel mondo anche High Fidelity e anche Minecraft, ma in test, è abbastanza interessante perché siamo abbastanza conosciuti e noti, quindi c'è un eventuale diploma che viene dato, comunque è interessante, vuol dire che siete entrati in contatto con questa realtà, Gli indirizzi utili li trovate tutti qua su questo documento, c'è un Google Classroom, a cui suppongo che vi siate iscritti tutti, questo stesso documento, c'è il gruppo Facebook, in cui se non siete iscritti, vi prego di iscrivervi, vi ho fornito anche un canale YouTube su cui potete fare riferimento, c'è anche un sito che si chiama Blender Edu3D, questo sito, e poi c'è l'indirizzo Zoom, che è quello che usiamo normalmente per le lezioni, e una cosa che ho anche aggiunto, è l'indirizzo di Hypergrid, con cui si può raggiungere da Edmondo, quindi queste cose magari ve le ripresento qua, su InCraft, Ok, quindi ditemi se ci sono dei problemi su questi riferimenti, e su cosa sia, quindi se avete delle domande scrivetele, in realtà preferibilmente, ce la faccio di più, a metterlo e a rispondere, a seguire qui su, ecco, tra l'altro, ho visto che la chat di Zoom, di Zoom, conserva gli hyperlink, quindi può esservi di interesse. Ok, quindi ci sono domande su questo primo blocco, diciamo, introduttivo. Se per caso avete qualche domanda, alzate la manina famosa, che abbiamo detto prima, oppure chattate. Ok, vedo che è arrivata Oriana Bucci, spero che senta, quello che stiamo dicendo, finora mi ha fatto solo una piccola presentazione, di quello che è il corso. Ok, allora, l'argomento successivo è il corpo, cioè che cosa stiamo cercando, di insegnare in questo corso. Allora, torniamo quindi al nostro documento. Il documento che vedete è sostanzialmente, vedete che c'è, qual è l'obiettivo? Allora, l'obiettivo che cercheremo di portare avanti è quello di farvi creare alcuni semplici oggetti in Blender. quindi stiamo parlando di bottiglie o vasi, quindi mi aspetterei che entro, allora, il corso dura circa sei settimane, quindi inizia sostanzialmente oggi. ma come avete visto, alcuni di voi hanno già cominciato a lavorare già un mese fa. I compiti che abbiamo dato sono sostanzialmente dei compiti di acclimatizzazione nei quali sostanzialmente vi stiamo chiedendo di fare una scacchiera, dei pezzi di scacchi, e poi alcuni di voi hanno anche prodotto dei tutorial che abbiamo anche inserito come opzionali per fare dei vasi. Un tutorial in particolare l'ho costruito anch'io e che è la famosa bottiglia. Adesso poi andiamo a vedere. Quindi l'idea è che alla fine di questa lezione, di questa settimana, quindi se non oggi, tra qualche giorno, siate in grado non tanto di fare la bottiglia e i vasi, ma comunque di muovervi un pochino in blender, quindi in maniera un pochino autonoma. La texturizzazione io la conserverei per la prossima settimana, quindi magari le parti proprio relative a fisicamente la bottiglia texturizzata, la metterei per la prossima settimana. Però prima stasera vediamo un po' anche a che punto siete, quindi vediamo come state seguendo. L'argomento sostanziale di questo corso come dal titolo Architettura è quello di fare una stanza di un appartamento. E per fare questo volevamo proporre di utilizzare un componente che è gratuito ed è già inserito dentro il vostro blender e si chiama Archimesh. Quindi noi vedremo con Archimesh come costruire una piccola stanza di appartamento con delle porte e finestre. Cercheremo di vedere, alla fine del corso voi dovreste quindi essere in grado di produrre una stanza con dei tavolini, degli eredi, forse delle sedie, dei vasi, e tutti questi oggetti li importeremo dentro OpenSIM. Quindi qui faremo una SIM come abbiamo fatto nell'altro corso in cui ognuno di voi avrà un pezzettino quindi adesso lo studieremo bene ma magari potremmo fare una specie di piccolo condominio oppure delle piattaforme come abbiamo fatto l'altra volta in cui voi cercherete di realizzare la vostra stanza in cui lavorate quindi l'obiettivo è proprio quello di creare questa cosa. Un'altra cosa che cercheremo anche di approfondire è come inserire anche altri oggetti non costruiti da voi che abbiano licenza CC0 o CC BY ma questo verrà poi dopo e o anche come voi potrete mettere le vostre costruzioni e rendere disponibile in maniera gratuita e open source in modalità CC0 e CC BY non so se il CC0 e il CC BY sapete tutti che cos'è quindi andiamo magari proviamo a far alzare la mano provate a alzare la mano chi non sa che cos'è il CC e il CC BY vediamo 3 partecipanti hanno 4 6 che non sapete cos'è il CC premesso che non lo affronteremo stasera in dettaglio però in maniera approssimativa il cioè introduttoria il CC BY è sostanzialmente una modalità di condivisione delle risorse delle risorse intellettuali e fa parte del movimento quindi CC vuol dire creative commons quindi se voi mettete creative commons su google vi arriva direttamente una versione anche in italiano e sono delle licenze che consegneranno adesso non leggiamo tutto quello che c'è scritto ma sostanzialmente quello che si cerca di fare con le licenze open source è quello di rendere disponibile quello che si fa anche ad altri quindi se voi fate un oggetto questo oggetto può essere anche riutilizzato da altre scuole a condizione che però ci siano per esempio dell'attribuzione quindi la licenza CC BY che è creative commons BY prevede che se qualcuno volesse utilizzare il vostro oggetto è tenuto a specificare in qualche modo che l'oggetto è stato creato da voi poi dopo lo può utilizzare poi c'è il CC BY SA che vuol dire che non può utilizzarlo ma poi non può in qualche modo chiuderlo quindi è obbligato le cose che fa lui a ridistribuirla in un modo analogo e poi c'è il CC BY ND che però io sconsiglio che vuol dire che se qualcuno usa il CC BY ND vuol dire non opere derivate quindi può usare le cose che date senza modificarle ma la cosa forse più interessante per i nostri scopi è che alcuni preferiscono il CC BY ND cioè bisogna dire chi l'ha fatto e poi questo oggetto non può essere messo in vendita insomma non può essere usato per scopo commerciale e la cosa più stretta è questo che il CC BY ND SA che però normalmente noi almeno io personalmente uso il CC BY che è il più semplice quindi si specifica chi è che l'ha creato in primo luogo e poi c'è sostanzialmente un altro livello di licenza che si chiama CC0 che se non andiamo a esplorare CC0 vuol dire che non c'è non c'è da fare nulla cioè chi lo vuole usare lo usa appunto e non ha neanche l'obbligo si chiama donazione al pubblico dominio allora io francamente questo il CC0 mi mi è sempre piaciuto molto perché vuol dire che le cose che faccio le fornesco all'umanità e non nel mio piccolo personale però è ovvio che non è che io vi chieda a voi di fare altrettanto nel senso che tutti hanno anche piacere essere che gli sia riconosciuto il proprio lavoro e quindi possono magari scegliere una licenza CCpy oppure perché no è possibile anche che alcuni di voi non siano d'accordo con l'open source quindi che pensano che il lavoro che state facendo se fate un'isola o qualcosa del genere sia assolutamente da tenere congelata e protetta contro chiunque la voglia copiare perfettamente legittimo io normalmente non lo faccio ma c'è qualcuno qualche insegnante che ci tiene secondo me è un po' scomodo poi fare lavorare in quel modo lì perché non si riesce a scambiare molto le cose che si fanno ma alcuni potrebbero decidere di farlo in quel modo ci sono domande ci sono domande su queste cose quindi sull'obiettivo del corso ok ecco un'altra cosa che forse avrete notato se qualcuno lo rivende a parte che normalmente quello che facciamo è difficile che qualcuno lo rivenda perché non è che facciamo delle cose così grosse comunque il fatto di non rivenderlo va bene non mi trovo d'accordo sostanzialmente quindi come vedete in realtà l'open source non vuol dire che è libero per tutti e gratis l'open source come dico sempre io è un universo di licenze giuridiche quindi tra l'altro è molto fine molto raffinato e tra parentesi non è che vieta in assoluto il riconoscimento del lavoro nel senso che è possibile fare consulenza in open source e essere pagati per le proprie ore di lavoro ma sostanzialmente non cioè è il lavoro in senso stretto che viene offerto non tanto il insomma il singolo oggetto prodotto scusate ok dicevo un'altra caratteristica di questo corso è che la maggior parte del lavoro l'avete già visto è svolto sostanzialmente da voi e non in realtà sì io ci lavoro molto su questo su questi corsi ma i maggiori artefici del corso siete voi che lavorate a casa vi studiate su dei video o comunque sui forum quindi con metodologie sostanzialmente che vengono chiamate classe capovolta no? quindi la classe capovolta vuol dire che sostanzialmente la la quasi totalità del 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 di ciò che si impara avviene a casa oppure tra le sue discussioni con altre persone e un'altra caratteristica di questo corso che avrete notato è che è fatto a più livelli quindi fra di voi ci sono delle persone molto esperte ma ci sono anche delle persone che non sono tanto esperte quindi c'è un po' di dislivello e questo dislivello è anche forte cerchiamo di farlo coesistere quindi questo vuol dire che chi è veramente molto avanti piuttosto che annoiarsi a parte che non ci si annoia perché cerchiamo sempre di vedere le basi anche in un modo non banale quindi io visto che chi è veramente interessato a Blender si sostanzialmente si insomma trova qualcosa di interessante anche sulle prime cose però può aiutare soprattutto nel gruppo anche chi magari sta iniziando e magari aiutando chi sta iniziando riesce anche a imparare meglio ciò che pensa di sapere Blender in particolare è un componente abbastanza complesso quindi anche le cose più apparentemente più banali possono nascondere un sacco di segreti ok quindi il adesso noi per questa prima lezione ci fermiamo sulle cose molto semplici quindi adesso io ho parlato un sacco spero di non avervi annoiato troppo e adesso andiamo tra breve vi farò un un discorso su quello che è l'interfaccia di Blender tenuto conto che non è tanto quello che io vi dico in questa lezione l'importante ma sono i video e i compiti che ci stiamo dando a casa prima però di iniziare vorrei solo capire e andiamo magari per negazione quindi se qualcuno di voi si sente in questo momento ancora fortemente diciamo principiante cioè non riesce ancora a muoversi su Blender o e quindi alzi la manina famosa quindi qualcuno di voi pensa di non riuscire ad avere diciamo la manualità minima che gli consenta di creare un cubo e di muoverlo di di metterlo su una scacchiera insomma questa cosa o pensate di avere viceversa allora Claudio Daniele dice che adesso lo leggo qua e anche Oriana Bucci giusto quindi siete in in due allora facciamo così io riapro un secondo Blender faccio un piccolo giro molto limitato perché altrimenti siamo tre ore attaccati a questa cosa e cerco di ripercorrere le parti basilari se vedete che mentre mi muovo se qualcuno di voi vede che mentre mi muovo stiamo toccando un pezzo che non sa fare mi blocca o alza la manina o cerca di chattare in qualche modo e vediamo di di starvi dietro però ovviamente non possiamo stare tutta la sera su un cubo che si muove però diamo almeno una possibilità di capire qual è il punto di intoppo ok quindi allora iniziamo quindi entriamo su Blender notate che adesso da adesso in poi vedo soltanto la chat di zoom quindi se volete se volete interagire con me dovete cliccare e digitare lì sopra ok allora il zoom cioè il Blender quando parto adesso mettiamo anche solo non ce l'ho già più il display ma magari ci abbiamo aspetta spero che ho trovato un altro programmino che permette di di vedere i tasti premuti vediamo un po' se ce la facciamo ok un po' si è partito lui si chiama Qipress ok vedete che questo programmino fa vedere il mouse e fa vedere sostanzialmente qui sulla sinistra si vede sostanzialmente quello che prego allora quando entrate siete in in Blender tutti siete stati capaci di modificare il Blender in modo tale di andare in italiano giusto se non l'avete fatto rifaccio il giro brevemente quindi andiamo in preferenze utente preferenze utente andate su sistema che all'inizio sarà system e poi qua in fondo avete la lingua allora qua normalmente international fonts non è non è toccato quindi se voi togliete la spunta torna tutto in inglese ma se lo cliccate potete selezionare la lingua italiana e poi cliccare interfaccia suggerimenti e nuovi dati e quindi a questo punto passa tutto in italiano il motivo per cui io vi suggerisco di passare in italiano negli ultimi corsi che sto facendo è per cercare di eliminare una barriera linguistica a quelli fra di voi che non conoscono l'inglese come Eva dice spesso gli tutorial che si trovano in giro sono spesso in inglese quindi chi vuole poi approfondire molto il brand dovrà comunque imparare l'inglese poi si fa salve impostazione utente e quindi questa impostazione viene effettivamente caricata la prossima volta entrate in italiano se altre opzioni che suggerisco sono sostanzialmente quelle quindi l'interfaccia in cui ruota attorno alla selezione suggerisco di cliccarlo perché permette di far ruotare gli oggetti in una maniera abbastanza umana la scala può essere interessante che permette di aumentare le dimensioni dei font o diminuirla io adesso per i video e per stasera uso un font 25% più grosso del normale poi se per caso voi non avete il il terzo bottone del mouse potete anche provare a fare emula mouse a tre bottoni e poi c'è anche l'emula tastierino numerico per quelli di voi che eventualmente hanno non hanno il tastierino numerico a destra emula il tastierino numerico vuol dire che invece di usare i tastieri del tastierino numerico si possono usare i tastieri di numeri normali che vengono usati spesso da da blender ok quindi una volta messa queste cose poi entriamo in questa interfazza ecco una cosa che ho fatto era anche di cambiare la preferenza utente nei temi nei temi nelle preimpostazioni io uso questo science lab il science lab lo uso più che altro perché crea un pochino di contrasto quindi un bel contrasto diciamo blu su nero che permette ma voi lo vedete voi blender lo vedete allora se lui non vede blender vuol dire che non è collegato a che non è collegato a zoom quindi dovrebbe collegare vedersi entrare con l'indirizzo di zoom l'indirizzo di zoom ce l'ha o se no se è su zoom gli dite di uscire o se mi sento insomma e uscire da quello che è provare a rientrare e magari rientrando se vedete l'indirizzo ecco guardate che questo è l'indirizzo di zoom perfetto nel caso comunque che non riuscisse a vederlo ancora può vedere il 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 video che stiamo facendo che poi sperando che si salvi sembra che si salva perché dice che sta registrando ma dovremmo esserci se comunque Claudio ha delle domande specifiche su queste cose può provare a farlo scriverlo digitarlo ok allora io vado un pochino avanti su questo primo pezzo e proviamo a modellare quindi allora vedete che io mi muovo tra l'altro vedete che questo questo programmino fa vedere vedete che sto muovendo la rotellina in alto vi fa vedere il senso di rotazione della rotellina quindi così con la rotellina mi avvicino e così con la rotellina in giù mi allontano se tengo cliccato il tasto centrale del mouse faccio quello così e poi trascino il mouse ottengo l'orbiting e questo è una cosa interessante quindi praticamente già così praticamente si riesce a navigare si dice intorno agli oggetti che sto costruendo e negli oggetti che sto costruendo la cosa più importante appunto è che il primo oggetto che c'è è un cubo ora io ripeterò un pochino brevemente quello che ho fatto con la scacchiera quindi io prendo sostanzialmente questo cubo e cerco di schiacciarlo quindi per schiacciarlo lo sostanzialmente lo faccio uno scale proprio come comando S che premendo Z sostanzialmente ho detto che si illumina l'asse Z in blu e mi permette di renderlo molto molto piatto e poi premo il tasto di sinistra del mouse e quindi blocco oppure anche invio potevo usarlo e poi questo oggetto posso fare S e me lo allargo a piacimento grande quanto voglio ok quindi in questo momento vedete che sto cercando di produrre quello che sarà la scacchiera che era uno degli esercizi che vi avevo dato l'altra volta allora a questo punto abbiamo finito di fare la cosa che potevamo fare in modalità oggetto adesso io voglio scolpire questa scacchiera per scolpire questa scacchiera devo perché voglio metterci tutti i pezzettini sopra per scolpirla devo andare in modalità modifica quindi qui vado o clicco qua sotto e vado in modalità modifica oppure premo semplicemente il tastino tab tra l'altro una cosa che forse abbiamo discusso a suo tempo era il fatto di usare Blender 2.8 piuttosto che la versione 2.79 alla fine ho deciso di non farvi usare ancora la 2.8 per una serie lunga di motivi la prima è che la 2.8 non è ancora uscita quindi uscirà probabilmente a fine anno o a gennaio e sarà molto abbastanza diversa proprio molto no ma abbastanza diversa da come vi sto insegnando però visto che è appena uscita creerebbe confusione se ve la facessi vedere quindi ci siamo fermati sulla versione 2.79 B che è quella che è scaricata dal sito ok allora torniamo alla nostra specchiera e tra l'altro giusto per fare qualcosa che è non noioso per alcuni di voi proviamo a fare la specchiera incavata quindi facciamo una piccola modifica al video quindi non è proprio uguale così complichiamo nel senso che andiamo in modalità abbiamo detto modifica e poi ci accertiamo di avere la selezione delle facce vedete che qui in fondo abbiamo vertice spigolo e faccia credo che per tutti sia spero che per tutti sia logico capire la differenza fra un vertice il vertice sarebbe associatamente i punti da cui è costituita il nostro oggetto quindi il cubo ne ha 8 i punti 2 4 6 8 e 8 invece gli spigoli sono quelli le linee che uniscono due punti e le facce sono tutta la faccia lo dice la parola stessa solo una cosa non so se ve l'ho già mai spiegato vedete che una delle facce in ogni caso è zigrinata si vede nel video che c'è questo effetto zigrinato c'è tutta una serie di di cosine eccetera questa faccia qua prende il nome è la faccia sostanzialmente principale che a volte viene usata in alcuni comandi quindi è la faccia selezionata correntemente quindi io seleziono e rendo zigrinata la faccia di sopra e poi faccio un piccolo trucco che è uno strumento che d'altro avete visto alcuni di voi quindi abbiamo una cosa quindi torniamo facciamo l'incasso l'incasso vuol dire che avendo selezionato la faccia la selezione la si fa proprio andando su qui col tasto destro tra l'altro purtroppo si fanno tutte le selezioni in blender col tasto destro e poi si preme i i cosa fa praticamente crea un incasso vedete che se muove il mouse mi crea mi fa vedere praticamente un'altra faccia più piccola che posso rendere molto piccola ma io la faccio abbastanza vicina al bordo ok poi premo il tasto sinistro del mouse per confermare oppure anche invio se vi è bastato dopodiché per incassare completamente questa faccia verso il basso faccio in realtà una estrusione estrusione vuol dire proprio prendere la faccia e muoverla verso l'alto quindi creando proprio della geometria in termini tecnico quindi se faccio E prendo questa faccia e la posso estruderla verso l'alto potrebbe essere l'inizio di un capitello ma se invece la estrudo un pochino verso il basso mi crea un bordino ok quindi così ho fatto quello che potrebbe essere una scacchiera con un bordino o una cornice quindi potrebbe essere un modo molto veloce per fare la cornice di un quadro una cosa che si usa spesso è vedere l'oggetto dalle viste diverse quindi posso vedere l'oggetto come vedete adesso uso senza vista quindi mi muovo sempre con l'orbiting o con la rotellina per avvicinarmi e allontanare oppure c'è anche la possibilità di tenere premuto il tasto centrale premuto lo shift premendo lo shift praticamente muovendo il tasto centrale si muove tutto il mondo ecco queste sono le basi del movimento quindi così praticamente cerco di muovermi di vedere l'oggetto altrimenti io posso vedere l'oggetto uno praticamente dal fronte quindi vederlo proprio qui lo vedete proprio dal lato sostanzialmente oppure sette dall'alto vedete che vedo tutta la pianta oppure dalla destra che lo vedo dal punto di vista della destra e un'altra cosa che si fa spesso quindi vedete che esprimendo uno uno è il tasse numerico e vedete che dice fronte però c'è questo prosp per togliere il prosp la prosp cosa genera? genera sostanzialmente queste linee che convergono all'infinito che è proprio il modo in cui si vedono i quadri le foto eccetera sì adesso sono in modalità modifica ma questo effetto che sto descrivendo adesso però ah la zigrinata no la zigrinata la ottieni semplicemente selezionando la faccia e poi una volta che qui hai selezionato la faccia vai su una faccia tasto destro allora qualunque tema lo fa vedere in un modo leggermente diverso alcuni lo fanno vedere lo fanno vedere meglio allora se usate il mio tema lo dovreste vedere più o meno così comunque dal video che sto usando si vede del video su zoom lo vedete zigrinato sì mi raccomando di in realtà non è obbligatorio ma se non usate il mio tema probabilmente i colori che vedete sono diversi e potrebbe essere confusionario il tema di base che usano tutti quando si entra in centro io lo trovo molto poco leggibile perché banalmente non si vedono queste cose allora torniamo un attimo comunque il zigrinato adesso lo useremo poco quindi anche se non sapete il zigrinato l'importante è sapete che io il zigrinato l'ho scoperto dopo sette anni che usavo blender cosa fosse quindi possiamo possiamo dire che si può sopravvivere anche anche senza sapere che c'è una faccia zigrinata allora l'importante è sapere che la faccia selezionata vedete che c'è un bordino in questo caso verde che permette di capire che quella faccia è selezionata un po' più illuminata si illumina perfetto allora adesso il punto successivo è quello di suddividere la faccia in alto e solo quella ecco una cosa che ho visto in molti dei compiti che mi avete spedito sia adesso che sei mesi fa era che sostanzialmente adesso noi facciamo la divisione della faccia in alto ma molti in realtà mi dividevano tutta la specchiera perché lo dividevano perché sostanzialmente passavano in modalità modifica e quando si passa in modalità modifica premivano evidentemente premivano la A che seleziona tutto quindi avevano tutto selezionato A della tastiera vuol dire all in inglese quindi seleziona o deseleziona tutto e se il passaggio successivo lo facciamo con tutto selezionato succede un po' di macello nel senso che si lavora su tutta la scacchiera anziché solo sulla faccia in alto invece il metodo che vi sto dicendo per fare la scacchiera prevede di selezionare solo la faccia in alto sì sì in alcuni si vede un po' di più in alcuni si vede un po' di meno ok allora come facciamo a questo punto l'obiettivo è quello di suddividere solo la facciata in alto in tanti riquadri che sono le caselle degli scacchi allora per fare ciò sì dunque c'è suddividi che però non so neanche dove sarà sotto vertice suddividi no sarà facce no non lo trovo da qua io mi trovo quasi meglio in questo caso voi sapete dove suddividi oppure se non lo troviamo qua gli strumenti le via suddividi ecco ci sono tantissimi modi per trovare le cose per noi gli slessici Blender è un massacro è un suicidio ma sapendo che si può agire in molti modi quindi o si trovano le cose qua sugli strumenti tipo suddividi oppure si usa per chi si ricorda la W oppure ancora se uno proprio non se lo ricorda non si ricorda niente ma si ricorda il nome almeno basta premere la barra spaziatrice premendo la barra spaziatrice compare quello che per gli utenti di Mac è abbastanza normale avere una sorta di Finder quindi il Finder esiste intanto io lo uso anche in Windows e cerchiamo suddividi suddividi e vedi che abbiamo tutte le voci e questo è un Google interno Blender quindi sapevate che Blender c'è un Google dentro che è la barra allora potete quindi fare suddividi e a questo punto abbiamo esattamente la situazione di suddividi che potremmo ottenere anche con gli altri mezzi ora per semplicità magari io potrei tenere la suddivisione in 2x2 oppure mettere 4x4 la cosa interessante è che vedete che adesso sono suddivisa in 2x2 ma qui io ho messo 1 di tagli quindi se io volevo fare 8 suddivisione secondo voi quanto devo mettere il numero di tagli qua? facciamo un pochino di inquizzo ecco quindi mi raccomando non mettete il 8 ma facciamo pure la cosa completa 7 così vediamo completamente la cosa così ecco una volta che abbiamo suddiviso suddiviso quindi vedete 8 arriva la questione e tra l'altro vedete che il suddivisione fatto in questo modo è perfetto cioè si suddivide la scacchiera in pezzi esattamente perfettamente identici cosa che se usiamo il coltello se usiamo anche altri strumenti a mano il controller che vedremo magari fra un pochino non potremmo essere così precisi quindi noi adesso siamo precisissimi rispetto alle dimensioni del nostro oggetto ok adesso entra un discorso che è abbastanza complessino in blender che sono i materiali quindi io voglio fare in modo tale che di questa scacchiera la parte laterale sia fatta in un colore che sarà il marroncino e poi sopra voglio fare metà dei tasti bianchi e metà dei tasti neri tasti dei quadretti tra bene se alcuni nei video non so se li abbiamo seguito ma per chi sa giocare a scacchi dovrà fare attenzione che il il quadratino in basso a destra di ogni giocatore deve essere bianco so che alcuni l'hanno fatto notare che c'è questo questo problema allora partiamo con il coso dunque allora cominciamo a selezionare tutto il nostro oggetto quindi selezionato e andiamo a vedere i materiali da cui è composto allora i materiali lo si trovano qua vedete che qui abbiamo una barra di tutte le opzioni se manca l'indicazione del materiale quindi faccio scivolare tutto a sinistra premendo il tasto centrale del mouse e scivolando a sinistra vedete che c'ho il materiale che si dice vedete che c'è proprio scritto materiale quindi andiamo sul materiale e vedete che qui c'è un materiale abbasso questo e questo materiale lo chiameremo legno quindi noi facciamo un materiale che sarà di color legno per essere sicuri che sia di color legno andiamo sul diffuso e vogliamo fare marrone allora il marrone è sostanzialmente un aranciato però quindi l'ho messo dalla parte dell'arancio però lo scurisco quindi lo scurisco parecchio qua e quindi a questo punto vedete che è diventato di questo colore quindi mi ha detto che la nostra scacchiera è di questo bel colore bruno qua si vede poco nella mia cioè no in realtà si vede abbastanza si vedete che è diventata tutta tutta marroncina sono andati in modalità oggetto e si vede che ha quel colore altrimenti ci sono altre modalità che si vedono da questo che è lo shader quindi l'ombreggiatura quindi noi normalmente siamo nell'ombreggiatura solida a volte andiamo nella texture o nel materiale in realtà le differenze sono a volte sottili a volte strane comunque il materiale vedete fa proprio vedere il materiale che riflette quindi fa vedere proprio gli effetti di riflessione nel materiale mentre invece la texture farebbe vedere solo la texture messa sono sottigliezze non è importantissimo la cosa che fa vedere veramente come si vedrebbe a tutti gli effetti renderizzato renderizzato vedete che lo fa vedere nella modalità proprio fotografica e questo a seconda i computer i computer più vecchi potrebbero avere difficoltà quindi il motivo per cui di solito si usa poco questa modalità è che è pesante per il computer e quindi si preferisce andare in solido che vedete che è molto più veloce a reggere i comandi vedremo chi di voi poi studierà Blender 2.8 vedrà che sostanzialmente è una delle differenze più grandi di Blender 2.8 che si lavorerà sempre in renderizzato e questo è il motivo per cui Blender 2.8 funziona con computer un pochino più più carrozzati quindi con tablet potrebbe non funzionare più andiamo a fare decisamente la scelta di materiali bianchi e neri quindi andiamo in modalità modifica dove eravamo già prima e a questo punto vogliamo selezionare solo la parte di sopra della scacchiera quindi selezioniamo una faccia ricordiamo che siamo quindi qui in selezione facce e andiamo in selezione tutto per caratteristica no simili shift G e selezioniamo tutto ciò che è complanare quindi che è parallelo a quella faccia quindi complanare su quel livello vedete che facendo questa selezione ho selezionato solo questo pezzo e questo tutta questa parte qua la facciamo ma proviamo a farla tendenzialmente con un materiale nuovo quindi aggiungiamo un materiale che chiameremo bianco no dobbiamo mettergli nuovo incontrare il nome facciamo bianco e dentro questo materiale adesso è già bianco quindi va bene così quindi questo apparirà esattamente di quella di quella con quella struttura e però adesso facciamo la piccola magia che è quella di deselezionare appunto a scacchiera quindi sto sfruttando una possibilità deselezione a scacchiera quindi deselezione a scacchiera vedete che mi deseleziona il quindi mi lascio selezionato soltanto queste parti qua da parte ci siamo anche fortunati perché prima questa parte qua è sostanzialmente la parte nera e quindi in un'altra no devo inserire ancora un materiale nuovo chiamo nero nel colore diffuso attenzione non confondere con speculare deve essere diffusa io spesso e volentieri li confondo e mettete tutto giù nero quindi questo diventa nero e per far diventare tutte queste faccine qua di quel colore facciamo assegna ok quindi così abbiamo assegnato quindi queste facce qua sono diventate nere quindi se noi facciamo il così vedete che ok quelle facce sono diventate nere ma purtroppo abbiamo le altre facce che sono ancora marroncine quindi dobbiamo riselezionare tutto purtroppo ho sbagliato avrei c'era un modo di fare queste cose qua più immediato ma possiamo di nuovo riselezionare dunque possiamo fare così selezioniamo adesso abbiamo selezionato tutte le nere no? poi possiamo andare su legno e selezionare anche tutte le marroni no quindi facciamo selezioniamo di nuovo seleziona con planare avrei fatto meglio ecco torno un attimo indietro avrei fatto meglio dire che tutta questa cosa qua era inizialmente bianco quindi facevo assegna bianco e poi a questo punto facevo la deselezione a scacchiera e queste selezionate le assegno al nero ok meglio questo è un metodo è un metodo più semplice seleziona assegna e seleziona su questo così abbiamo fatto la selezione della nostra scacchiera quindi questa scacchiera qua sostanzialmente è pronta fin qui tutto tutto chiaro più o meno al giro cioè questo questo giro dei materiali è forse un pochino complicato nel senso che man mano che si fanno le cose si assegnano i materiali e poi è possibile una volta tra l'altro questa cosa funziona solo quando siete in modifica perché se siete in modalità oggetto si vedete i materiali ma non potete assegnare in maniera fine quindi vedete che si il modo di lavorare in maniera fine su un oggetto è quello di andare definitivamente in modalità modifica in modalità modifica potete creare i materiali e fare poi quello che volete ora questa cosa qua ecco fermiamoci un attimo qua e proviamo a pubblicare questa questa scacchiera su su Sketchfab che ho fatto vedere in alcuni miei video forse l'ha fatto vedere anche anche Eva quindi per farlo si può averla tutta selezionata così ma soprattutto la cosa fondamentale è che bisogna dire dati esterni incorpora in questo caso probabilmente se non abbiamo texture non è un problema quindi non succede nulla di drammatico però forse i colori sono ancora un po' problematici quindi si dovrebbe incorporare il tutto così e poi si salva semplicemente salva quindi facciamo salva come e lo portiamo sotto qua vabbè anche e lo chiamiamo e lo chiamiamo scacchiera scacchiera.blender .blender è proprio il suffisso ufficiale di blender dopodiché proviamo a vedere come funziona andando su Sketchfab sketchfab.com posso fare l'upload vedete che accetta un sacco di formati fbx obj dae ma anche blend stl è il formato della stampa 3d ci sono anche altri modi cioè di mettere tutto insieme sotto zip ma noi ci accontentiamo del blend quindi facciamo scegli file andiamo a vedere io cerco scacchiera blend che è questo e uso questo everything programmino che mi permette di cercare tutto nel mio computer un altro google che uso internamente glielo passo dentro a Sketchfab faccio continue andiamo un nome così facciamo adesso questo facciamo continuo e lui adesso ci piega un pochino a tirare su il file in Sketchfab adesso vediamo non è detto che tutto questo sistema stia andando bene il mestiere del programmatore a volte è fatto da trial and error però in questo caso sono stati fortunati ha funzionato abbastanza quindi a volte non vengono i colori quindi vedete che posso esplorare la mia tastiera la mia scacchiera e poi ecco solo una cosa dovete però andare selezionare un modo di farvela vedere molti di voi non lo fanno e se non fate questo save view non comparirà quando pubblicate su Facebook la preview dell'immagine cosa che è abbastanza antipatica quindi vi consiglio sempre di basta qui muovere il mouse andare qua e si fa save view in questo modo si salva il thumbnail e quindi la preview se non l'avete fatta non avete quell'effetto lì poi vi consiglio sempre di andare su allora qui privacy public public download gli mettete io di solito appunto metto sostanzialmente un cc buy vedete che Sketchfab usa in default un cc buy altrimenti si possono mettere anche altre cose che sono quelle che dicevamo prima creative commons quindi potete il default è attribution se no potete insistere e mettere non commercial no derivatives non possono lavorarci sopra share like invece blocca non possono farci altre cose vi ricordate che abbiamo parlato prima ma la cosa interessante qui possiamo anche fare save changes e poi andate nei 3d settings a tutte queste cose qua nei miei video li vedete comunque nei settings la cosa interessante e qui ci sono una valangata di robe non ve lo posso spiegare tutto per ciascuno ma se mettete il renderer a classic diventa tendenzialmente su cui si vede poco ma diventa molto più lucida quindi questo è il modo in cui alcuni di voi pubblicano le cose molto lucide pbr è un modo di fare che è un pochino meno lucido matcap lo fa vedere senza le varie cose e così via quando avete finito fate il save settings e poi potete fare il publish quando avete fatto il publish vi compare proprio l'indirizzo del modello questo e se ve lo metto nella chat di qua e quindi avete il vostro quindi se voi cliccate qua sopra ve lo metto anche qui in in craft dovreste averlo avere la possibilità di vederlo ok fin qui tutto chiaro ci sono problemi su questa parte qua che magari voi tutti ecco se sono a un livello troppo basso per cui alcuni di voi magari sanno memoria tutte queste cose ditemelo ma se ci sono almeno due o tre persone che non lo sanno fare anche questo ripasso può essere utile e visto che facciamo ripasso vediamo anche come importare qui su su OpenSIM ok quindi per importare su OpenSIM qualcuno di voi ha dei problemi a importare su OpenSIM ecco alzate le manine se ci riuscite quindi quanti di voi non sanno portare o hanno dei problemi difficoltà a portare su OpenSIM le cose due hanno alzato la mano e vedi funziona bene la manina allora facciamo questo piccolo esperimento di portare tutto su OpenSIM ripeto queste cose sono già tutte sui miei video ma è meglio vederle di nuovo insieme quindi andiamo di nuovo sulla nostra scacchiera la scacchiera qua facciamo selezioniamo quindi andiamo in modalità oggetto ci accertiamo di averla selezionata quindi tasto destro quindi che abbia tutto il bordo blu e facciamo file export collada default allora facendo così ci possiamo dobbiamo anzi dirgli che vogliamo esportare su OpenSIM static static vuol dire che esportiamo degli oggetti rigged sono gli avatar o gli abiti ma noi facciamo static degli oggetti e tutte le opzioni qua sono di solito tutte a posto a volte ci possono essere dei dubbi forse sui materiali ma mi sembra che sia tutto a posto e qui la chiamiamo scacchiera.dye quindi facciamo esporta collada quindi qua è tutto a posto ora una volta esportato andiamo a vedere dov'è scacchiera.nonblend ma .dye quello qua prendo dove l'ho messa non mi ricordo mai andiamo dentro open sim qui dove siamo e qui ecco qui ce l'ho invece in inglese ma intanto e facciamo carica e modello mesh model ok e qui mettiamo il nostro indirizzo ok quindi a questo punto ok si stava bloccando vedete che mi fa vedere parsing issue ecco questo vi è mai capitato? no la scritta che dice quella lì probabilmente non dice che devi scaricare Firestone per Second Life ti dice qualcosa di diverso perché detto così è un po' strano probabilmente o ti dice un avvertimento che puoi ignorare oppure effettivamente tu non hai scaricato la versione di Firestone per open sim ma questo magari sì ma attenzione quando scarichi Firestone devi vedere sul sito ci sono tre versioni di Firestone una è per Second Life una è per open sim e sostanzialmente sono lì poi ci sono 32 e 64 ovviamente se tu sei in open sim scarichi la versione per open sim può anche darci che tu abbia scaricato la versione non per open sim non so se sono chiaro su questa cosa qua se tu vuoi andate su Firestone download e fai download Firestone e poi andate su Windows ad esempio c'è for SL only e poi SL in open sim e se hai scaricato la versione per SL e open sim allora sì se tu hai scaricato questa versione non c'è problema quindi può darsi che l'errore che ti ho dato in realtà sia un warning che dà a volte che basta ignorarlo perché quello è proprio per open sim cos'è questa cosa ah ok questa qui è una cosa che dice dove spiega come correggere il parsing error però la cosa che a volte succede del parsing error è che lui dice CLog for details no? il CLog for details se c'è proprio un log di Firestone che si può cercare quindi si può anche cercare da qualche parte dovrebbe esserci un Firestone log che probabilmente sarà adattato esattamente oggi che è questo 20 quindi se io prendo questo e lo apro questo file vediamo un po' se ce la faccio ad aprirla in qualche modo allora PS Pad va benissimo però si possono essere anche tanti altri programmini che aprono addirittura anche il blocco note che è quello più che hanno tutti quindi si apro dentro ci sono un sacco di cose e c'è la possibilità di fare ricerca prova e qui cerchiamo magari proprio il nome del nostro file per vedere se c'è qualche cosa il file che gli abbiamo dato era scacchiera quindi se noi cerchiamo scacchiera e cerchiamo verso in su non ce l'abbiamo cerchiamo dai no come di solito queste cose capitano quando sapete no no ma credo che il problema sia perché non ce l'abbiamo la web perché qui abbiamo seguito tutte e non ci sono i materiali di conseguenza cioè non ci sono i materiali associati all'UVMAP quindi io farei una prova prima di andare a esplorare l'errore andrei a metterlo in maniera in maniera canonica quindi torniamo un attimo sul nostro sul nostro sulla nostra mesh che abbiamo qua e andiamo proprio in maniera canonica a fare l'UVMAP di tutto in realtà in questo caso l'UVMAP potrebbe essere anche una cosa molto semplice nel senso si può semplicemente andare in modalità modifica selezionare tutto e poi semplicemente di fare una UVMAP di quelle diciamo anche quando uno non sa bene quale UVMAP prendere potrebbe fare la proiezione UV intelligente vediamo la proiezione UV intelligente assolutiamoci questo ok le WMAP in realtà sono delle immagini poco più in realtà non sono proprio delle immagini ma sono si si ma non sempre fa queste cose ma però lui vuole questo anche per no i materiali ce li abbiamo tutti qua ma proviamo a metterci questo UVMAP poi comunque se per che non funziona limit pay of line faccio poi in controllo e lo vediamo meglio tanto non è che dobbiamo risolvere tutto nel corso della cosa no lo UVMAP che genera lui vedete che qui io posso trascinare l'angolino e vedere poi come apparirà l'UVMAP vedete che lui ha fatto un UVMAP tutta un po' stranina ma comunque va bene l'importante è che non sia sovrapposto ora se io gli metto questo UVMAP adesso metterlo UVMAP vuol dire semplicemente farla vrap e basta non c'è bisogno di fare niente di particolare in realtà per fare le cose poi a modino bisognerebbe metterci anche le texture comunque prima vede se solo con l'UVMAP riusciamo a risolvere questo problemino qua quindi facciamo file esporta collada e qui facciamo scattiera 2 esporta collada troviamo data modifica chissà se lo prende proviamo a fare il post oh se non lo tira su adesso poi lo vedo con calma riproviamo build modello scattiera 2 vedete che tra l'altro è diventato molto più grosso con il con l'UVMAP vediamo un po' cosa dice niente c'è ancora un problema lo guardo poi offline e vi dico poi dopo le lezioni qual è il problema di questo scattiera giusto per non interrompere la lezione però per evitare di lasciarvi a mezzo quello che volevo dirvi è che quando siete in fase di caricamento vedete che c'è sempre l'opzione di specificare high medium low lowest quindi i vari livelli di load si chiamano level of detail i livelli di dettaglio sono fatti in modo tale da andare progressivamente da un livello molto grande a un livello molto piccolo il livello di dettaglio high è quello che si vede quando l'oggetto siete molto vicini all'oggetto e il medium quando siete a distanza di 3-4 metri insomma un pochino distantuccia alcuni di voi avranno notato che quando si allontano in open sim dall'oggetto l'oggetto degrada subito per evitare che si degrada a piccole distanze conviene dire use load above cioè quindi quando si fa il quando si fa il il caricamento almeno al medium cioè il livello diciamo da pochi metri mettetelo sempre uguale quello high in questo modo evitate che l'oggetto degradi anche quando viene tornato di poco ok niente torniamo un attimo invece al al nostro alla nostra scacchiera ok all'oggetto per stasera era di fare la scacchiera ma era anche di fare qualche pezzo adesso abbiamo non tantissimo tempo ma volevo farvi vedere come innanzitutto qui tra l'altro questa scacchiera qua abbiamo salvato già quindi facciamo salva mettiamo qui un po' di coraggio insomma facciamo facciamo torniamo al numero di finestre originali e poi proviamo a metterci alcuni pezzi sopra questa scacchiera allora per fare i pezzi sulla scacchiera io ho proposto come esercizio per stasera di fare sostanzialmente dei cilindri eventualmente con dei tagli ad hoc quindi dalla modalità oggetto quindi non mentre siete modalità modifica della tastiera ma quando andate in modalità oggetto fate che inserire shift a un un cilindro vedo che qui ci sono un po' di mi stanno dicendo queste cose faccio poi dopo perché tanto comunque lo pubblico poi su dicevo inserite sostanzialmente un cilindro quando inserite un cilindro noterete che il cilindro cilindro viene inserito nel punto in cui il cursore il cursore la potete muovere sostanzialmente cliccando col tasto sinistro del mouse conviene di solito tutte le cose conviene mettere più o meno centrate oppure mettete il cursore più o meno sulla sulla scacchiera e poi fate aggiungi e facciamo mesh e mettiamo il cilindro vedete che il cilindro viene costruito proprio lì sopra quando costruite un oggetto vedete che compaiono le caratteristiche di quell'oggetto qui in basso a sinistra e queste caratteristiche rimangono fin tanto che non muovo l'oggetto quindi conviene metterlo a posto subito per esempio se questo oggetto il cilindro volete fare l'opoli mettete subito i vertici a 8 vedete che viene tutto triangolato così e una cosa che Eva mi ha fatto vedere anche l'altra volta mettete tranquillamente genera UV questo genera UV vi consente di avere già una UV mappa fatta questo potevamo farlo anche all'inizio quando abbiamo creato il cubo da qui siamo partiti poi ci saremmo trovati l'UV quindi una volta fatto così possiamo poi prendere questo cilindro e per esempio con la S lo restringiamo e lo mettiamo più o meno in un modo tale quindi possiamo anche allungarlo verso l'alto facendo scala SZ e facendo scala SZ lui si allunga opportunamente una volta fatto così adesso siamo in modalità prospettiva magari premiamo 5 per andare in modalità ortogonale e poi lo vediamo magari 1 frontalmente e quindi andando in modalità Z modifica possiamo aggiungere con ctrl r questo è quello che è stato sostanzialmente chiesto di aggiungere un po' di suddivisione c'è quest'altro modo per aggiungere suddivisione che è quello di questa in realtà sta aggiungendo se vediamo di lato comunque aggiungiamo una serie di invio due volte ed è che lui in realtà facendo in questo modo col ctrl r ha aggiunto proprio questi anelli sono gli anelli su cui poi si va ad operare quindi prendendolo di lato si prendono questi anelli che si selezionano diciamo con alt quindi alt premo in prossimità in modo quasi da tagliare il posto in cui voglio selezionare l'anello e mi seleziona tutto l'anello e poi a questo punto posso fare S e andare a comporre quello che potrà essere il mio quindi alt così posso fare delle figure e queste figure possono essere A devo lavorare di A S eccetera posso andare a comporre una sorta di pezzo di scacchi questo pezzo di scacchi supponiamo che sia fatto così faccio set del tastierino numerico e cerco di con S di farlo più o meno grosso da metterlo dentro un pezzo della scacchiera e poi provo a posizionarlo sulla scacchiera fatto così vedete che vado a occhio quindi posso metterlo in maniera più o meno perfetta nel video avevo spiegato come metterlo in modo da renderlo perfettamente centrato anche questo pezzettino conviene in ogni caso mettergli un materiale quindi se vogliamo fare un pezzo nero oppure di un altro colore andiamo anche qua selezioniamo tutto questo oggetto qua andiamo nei materiali possiamo o selezionare un per esempio se vogliamo fare di legno possiamo mettere esattamente un materiale già usato quindi per riciclare questo materiale e quindi questo diventerebbe l'oggettino di partenza un'altra cosa che ho visto un pochino in alcuni dei video è la possibilità di levigare questo pezzo quindi possiamo possiamo selezionando questo pezzo dire che l'ombreggiatura va levigata che però purtroppo vedete che alcuni hanno alzato la mano quindi chi ha alzato la mano voleva dire qualcosa o uno che ha alzato la mano non si sa forse siete parlando di là no ah forse ecco ecco una cosa che avevamo visto oggi pomeriggio proprio era che quando si fanno anche le suddivisioni o queste cose ci sono c'è la possibilità di dire che alcune parti non vanno levigate o non vanno o non vanno sospate e questo lo si può fare controllando esattamente quali superfici su quali superfici si lavora e qui possiamo fare il ctrl z ctrl z sono troppo indietro quindi vado avanti e proviamo a vedere allora dov'è che è interesse che questo oggetto rimanga levigato sono tutte le superfici curve quindi andando sostanzialmente in modifica posso selezionare tutto e poi deseleziono quindi posso deselezionare la parte qui deseleziono le facce deseleziono la faccia in alto poi dovrei deselezionare la faccia in basso però ce l'ho troppo attaccato alla cosa quindi facciamo così lo mettiamo sopra quindi faccio shift deseleziono la faccia in basso quindi adesso ho selezionato solo le parti praticamente quelle che vanno poi curvate e posso dire che soltanto quelle facce vanno levigate e questo c'è un'opzione da qualche parte che dovrebbe poterlo dire ecco qua nella ombreggiatura UV abbiamo la possibilità di levigare solo le facce selezionate quindi se io clicco qua vedete che lui mi leviga solo queste facce quindi se io vado qua non si vede iper bene quindi probabilmente bisognerà controllare quali facce ancora su cui bisogna operare però vedete che la levigatura non è stata fatta sui bordi della faccia di sopra e di sotto oppure per semplicità torniamo e mettiamo tutto in modalità nitida e abbiamo i pezzi che facciamo ctrl z e quindi abbiamo i pezzi da mettere così quindi adesso è un pochino tardi quindi finiamo così no? e l'obiettivo di questa settimana era quello di fare una scacchiera e di mettere questa scacchiera su questa scacchiera gli degli scacchi messi un po' come avevo fatto vedere io ma se per caso voi riuscite anche a mettere degli scacchi più interessanti eventualmente anche colorandoli sapete per colorarli basta fare l'assegnazione dei materiali cos'altro dire quindi per la prossima settimana io passerei beh a parte risolvere quel problemino così vi spiego bene come mai non è stato importato in OpenSIM ma sostanzialmente rimarrei ancora una settimana sulla bottiglia appunto che stasera non ho fatto vedere perché ho fatto proprio tutto il ripasso di questa prima parte Oriana dice sì se poi mi dici dove ti sei perso perché ho fatto delle cose relativamente cioè già fatte nel video e vediamo magari insieme sul gruppo se anche qualcuno mi dà una mano a aiutare chi non ce la fa a mettere i pezzi e nel corso precedente molte persone erano riuscite a fare delle cose meravigliose con la scacchiera nel senso che avevano fatto di tutti i colori quindi quindi dalle sì la calamita adesso qui a parte che abbiamo poco tempo verso la fine la calamita ha qualche piccolo problema che infatti l'altro giorno ero in teleconferenza con uno di voi e abbiamo visto che se cioè in alcune situazioni la calamita può creare qualche problemino quindi bisogna avere molta pazienza ma più chiaramente le calamita il discorso era che alcuni di voi avevano fatto degli scacchi molto creativi quindi potrebbe essere anche interessante se qualcuno facesse degli scacchi un po' originali semplici ovviamente e spiegasse come li ha fatti cioè con metodi costruttivi magari non è detto che debba per forza spiegare come fare tutti i 32 pezzi però potrebbe essere interessante se si facesse un piccolo tutorial per fare uno un pezzettino degli scacchi piuttosto che una delle cose che abbiamo visto era anche sempre fare un cavallo o fare cose del genere va bene allora Luan chi è Luan si si fate dei mini tutorial i tutorial per essere efficaci devono essere abbastanza brevi perdonate se ho fatto alcuni tutorial di 45 minuti ma mi hanno detto che erano utili comunque ma voi probabilmente se lo fate è meglio se lo fate limitati al di sotto dei 15 minuti meglio ancora se di meno per fare il singolo pezzo va bene allora se siamo d'accordo ci sentiamo ancora la settimana prossima quindi giovedì prossimo ci sincronizziamo su facebook e direi che per adesso è tutto buona notte qui qui è qui è è qui è qui Grazie a tutti.